Siamo qui per presentare la seconda edizione del Festival Hermetica che si terrà il 7, 8 e 9 settembre nel Centro Storico di Tolentino e questa seconda edizione per noi è molto importante perché si tratta di un vero e proprio inizio mentre invece l'anno scorso, essendo il nostro primo evento pubblico, il Festival, è stato più una prova. Quest'anno siamo pronti e abbiamo durante l'anno organizzato diversi eventi, 8 caffè letterari e 2 incontri speciali e quindi siamo sicuramente consapevoli dei nostri limiti e consapevoli di ciò che può far bene alla città perché appunto il nostro scopo è sempre stato quello di creare eventi interessanti e eventi a cui noi saremo per primi andati qualora ci fossimo trovati appunto dall'altra parte. Il Festival quest'anno ruota intorno al concetto di marchigiano quindi alla marchigianità nella sua essenza, cioè la ricerca di elementi caratterizzanti del nostro territorio che possono essere per noi valori identificativi, quindi in cui ci rivediamo. Il Festival è dedicato a Giorgio Ciomei, pittore di Tolentino, che per noi è una di queste voci capaci di identificare il territorio, specialmente quello dell'Alto Maceratese di cui appunto facciamo parte e i caffè letterari sono stati animati proprio dalla ricerca di persone che come Giorgio Ciomei hanno saputo dare un'identità a questo territorio, quindi il Festival si pone anche come un inizio ma anche come una fine, perché appunto è il punto di arrivo di tutta la ricerca che abbiamo fatto durante l'anno di attività. Come nuova amministrazione comunale abbiamo deciso di sostenere fortemente questo Festival perché nasce dall'approfondimento di quattro giovani tolentinati che hanno voglia di risvegliare le iniziative culturali e l'attività culturale a Tolentino. È un festival di una complessità positiva, una complessità di studio, di approfondimento, di ricerca e noi siamo stati contentissimi di poter accogliere questa richiesta e accogliere la loro iniziativa. E noi crediamo in questo progetto perché può nascere un progetto culturale che può avere una risonanza non solo locale ma anche provinciale e regionale, come tanti altri festival che sono partiti piano piano poi hanno preso sempre più forza. La seconda edizione del Festival Hermetica, il tema è Sacro e Profano. È un festival che sicuramente arricchisce l'offerta culturale della città di cui ne siamo particolarmente grati a questi ragazzi di Tolentino che sono amanti della cultura e dell'arte. È un festival che si inserisce nell'estate tolentinate, il centro del festival sarà appunto il cuore della città, il nostro centro storico con tante location ed è anche un festival che vedrà al proprio interno la partecipazione di tanti ospiti, di mostre, concerti ma anche l'utilizzo di nuove forme di linguaggio e aiuteranno ad avvicinare alla cultura un pubblico variegato e anche giovani perché all'interno del festival ci saranno anche performance nuove adatte ai giovani e anche un DJ set. Il festival è stato concepito anche come collaborazione tra più associazioni di Tolentino e questo ci fa naturalmente molto piacere.